Cari amici dei Gittanti Gioiosi, siamo in discesa, oggi è il 2 di luglio del 2021, vi facciamo vedere il panorama di Pianderebettulle. Quello è Pianderebettulle, poi il montagnone maestoso che si vede là è il famigerato legnone, vedete un cocuzzolo estremamente interessante che noi abbiamo già salito una volta. Sopra Pianderebettulle è l'Alpe Giumello e poi vi facciamo vedere il lago, se riuscite a vederlo perché siamo contro sole. Comunque il lago, uno scorcio di lago e poi girando ancora tutto il crinale della grigna settentrionale fino a vedere il bellissimo skyline della grigna settentrionale. Ecco, noi siamo andati a pranzo alla rifugio a Ombrega dove abbiamo mangiato il nostro panino perché il rifugio era chiuso, comunque siamo stati benissimo insomma. Oggi è una giornata di grandissimo sole, il vostro agitante Gioioso vi saluta, vi ringrazia dell'attenzione e vi dice Allegger, Allegger, che noi siamo sempre chi. Ciao!